buongiorno buongiorno a tutti e bentornati su gaming galaxy oggi dove andiamo a trovare questa bellissima autina che io la chiamo l'auto di batman in realtà si chiama caliburn ma prima di scoprirlo ricordatevi di iscrivervi al canale se per caso non lo siete ancora e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video ebbene dove andare a pescare questa bellissima autina non è difficile in realtà ci arrivate con una questa secondaria ma voi non lo saprete quindi dovrete fare una questa secondaria che è esattamente dopo le quest di corsa con le varie auto quindi ci arriverete con la beast e con la vostra carissima amica che poi vi regalerà la beast ma voi non saprete che in fondo a questo bellissimo tunnel dove andrete a fare la quest per ammazzare la banda che c'era qui dentro in realtà dovreste proseguire ma voi nella quest tornerete indietro quindi non vi dico la quella questo dovrebbe essere beat the beast quindi sconfiggi la bestia una volta che voi arriverete qua con la vostra compagna e la macchina arriverete fino a un certo punto e poi tornerete indietro adesso vi faccio vedere a che punto arriverete con la beast voi con la beast arriverete qui e vi fermerete qui per poi una volta finita la quest tornare indietro qui troverete i vostri bellissimi nemici ma se voi proseguite avanti non di molto passate il ponte qua dentro troverete lei è semplice è un hangar qui dentro ci troverete un bel po di roba inoltre troverete la macchina che una volta saliti dentro vi verrà regalata dovrete uscire e potrete uscire tranquillamente dalla parte opposta come vedete veramente una stupidata trovare quest'auto in realtà potete andarla già a cercare fin da subito ma chiaramente poi magari non andatevi a schiantare come faccio io la potrete trovare fin da subito ma ovviamente voi non sapendolo non potrete andarla a cercare questa è una rainfield caliburn voi potrete comprare la versione bianca chiaramente ma se volete la versione nera dovrete andarvela a cercare vi faccio vedere la mappa come ultima cosa di dov'è noi come vedete siamo usciti qui in realtà siamo entrati qua quindi questo è il punto da dove partire questo è il punto d'ingresso della del tunnel e questo invece è il punto di uscita all'interno troverete la caliburn spero che anche se è un videino molto corto vi sia stato utile e noi ci vediamo con il prossimo gg a tutti quanti